Grazie a tutti. Una giornata da ricordare, ha detto entusiasta il presidente provinciale dell'UMPLI, Damiano Bartocetti. Abbiamo gettato le basi per un progetto di larga scala che prevede la collaborazione tra i due enti di scambio di prodotti tipici locali e di attrazioni turistiche e soprattutto stiamo puntando per un progetto nazionale con il treno, con Ferrovie dello Stato. E qui ho oggi dietro di me le scritte della Regione Marche che stanno proprio a testimoniare il lavoro che la Regione Marche sta svolgendo nei nostri confronti. Soprattutto un forte ringraziamento al presidente Francesco Acquaroli e all'assessore Francesco Baldelli, a tutta la giunta, al consiglio e a tutti i dipendenti che collaborano su questo progetto che sta diventando veramente di una portata nazionale. Un'iniziativa nata a Monbaroccio molti anni fa grazie al presidente Bartocetti e che oggi si ufficializza, ha sottolineato Roland Buratti, presidente dell'azienda di soggiorno e turismo di Bolzano. Siamo felici di portare un pezzetto della nostra Bolzano nelle Marche e di poter contribuire alla realizzazione di un ponte culturale fra le due realtà. Questa rete che avete fatto di queste proloquo delle province di Pesaro Urbino è veramente qualcosa di eccezionale e oggi con questo accordo che accomuna proprio le nostre due realtà per la volontà della valorizzazione del territorio e dell'amore per il proprio territorio. Vi aspettiamo tutti al mercatino di Bolzano con questo nuovo treno anche, ma con quello che desiderate. Tra le novità in vista per la prossima edizione, il Christmas Rail, ovvero un treno che collegherà nel periodo natalizio Bolzano ai borghi del Natale che non ti aspetti e anche viceversa. Noi le vogliamo unire anche da un punto di vista infrastrutturale, di comunicazione fisica. Stiamo organizzando ormai da tempo il Christmas Rail che sarà il mezzo con cui faremo dialogare l'Alto Adige e le Dolomiti con le nostre stupende spiagge, con il nostro stupendo introterra e con le nostre montagne. Per un progetto che è nazionale e come tale verrà trattato dall'Alto Adige e dalla regione Marche.